da martedì si è aperto il mercato delle ciliegie siamo qui a conversano nella zona artigianale compagnia di franco fanelli e marino anelli allora come sta andando insomma quest'anno in ritardo sta creando problemi perché quando un articolo arriva in ritardo è sempre un problema niente per noi sul mercato abbiamo un po di concorrenza è che la ciliegia spagnola e ci sta dando problemi grossi problemi perché non riusciamo ad essere competitivi con la nostra ciliegia addirittura ma la qualità dal punto di vista qualitativo come siamo messi dal punto di vista qualitativo la ciliegia di conversano è la ciliegia prima in puglia diciamo al mondo al mondo la concorrenza è con la ciliegia con la ciliegia spagnola che non è non è come qualità non è come la nostra però il prezzo sta al di sotto diciamo se si parla si parla di tre euro o meno di quella italiana allora mentre per quanto riguarda la nostra situazione quali sono i prezzi i prezzi i prezzi attuali stiamo dalle 6 alle 6 e 50 come euro diciamo la ciliegia nostra invece la ciliegia spagnola stanno facendo 4 euro 4 euro e 50 al massimo sul mercato ortofrutticolo di di milano grazie a tutti